Stai pensando di adottare un Whippet? In questo video di Animalpedia spieghiamo tutto ciò che devi sapere su questa razza di cane. Di origine britannica, il cane Whippet è nato dall'incrocio di cani di tipo Levriero e Terrier. Gli incroci effettuati diedero origine a uno dei cani più veloci attualmente esistenti, capace di raggiungere i 60 km orari in pochi secondi. Questi cani erano usati come cani da corsa e da caccia per lepri e conigli. Attualmente queste attività non sono comuni e sono sempre più presenti i cani Whippet da compagnia che godono di una vita tranquilla. Per le loro caratteristiche sono cani forti e resistenti con un'ottima predisposizione all'attività fisica. La testa del Whippet è lunga e sottile, appiattita verso l'alto. Si assottiglia fino al muso, anche esso lungo e sottile. Gli occhi sono ovali, luminosi e hanno un'espressione molto vivace. Le orecchie sono piccole e a forma di rosa e hanno anche una tessitura fine. Il collo invece è lungo e muscoloso e il dorso largo, sodo e alquanto lungo. Il torace è profondo, con un petto ben definito, basso e continuo con l'addome ben retratto. La taglia del Whippet varia tra maschi e femmine. Nei maschi dai 47 ai 51 cm. L'altezza invece delle femmine tra 44 e 47 cm. Il peso non è indicato nello standard FC della razza, ma di solito pesano tra i 9 e i 20 kg. Il Whippet ha un carattere calmo, gentile, dolce e sensibile. Può essere riservato con gli estranei, quindi è consigliabile socializzare da cucciolo per evitare problemi di timidezza quando il cane è adulto. Questi cani tendono ad andare d'accordo con bambini più grandi, odiano i giochi rumorosi e quindi non sono i migliori animali consigliati per bambini più piccoli. Non è facile avere un Whippet insieme a un altro piccolo animale domestico, poiché questi cani hanno un forte estinto di caccia e tendono a inseguire e catturare tutti quei piccoli animali in rapido movimento. Tuttavia, di solito vanno d'accordo con altri cani. A causa della loro pelle sottile e del pelo corto, questi cani sono molto sensibili al freddo e dovrebbero essere protetti con indumenti per cani quando fa freddo. Per quanto riguarda la loro dieta, hanno un metabolismo veloce e questo significa che devono mangiare più volte al giorno, ma almeno. D'altra parte, possono adattarsi a vivere in un appartamento, ma hanno bisogno di fare esercizio fisico vigorosamente su base irregolare. Con circa tre passeggiate al giorno e un po' di tempo in libertà, il nostro Whippet sarà davvero felice. Infine, devi tenere presente che per la cura del loro pelo, devi utilizzare una spazzola morbida e prodotti privi di componenti aggressivi. Il Whippet è un cane timido, ma interagirà con altri cani senza alcun problema se diamo lui una buona socializzazione fin dalla sua fase di cucciolo. Per fare ciò, dovrai presentargli regolarmente altri cani, gatti o animali domestici, persone e oggetti di ogni tipo. Come ogni altro cane, il Whippet deve imparare comandi di base che forniscono sicurezza ovunque si trovi. Questo gli permetterà di sviluppare una buona salute mentale e un buon rapporto con te. I Whippet hanno una vita media compresa tra i 12 e 15 anni, ma possono essere soggetti ad alcuni disturbi relativamente comuni nella razza. Quindi parliamo di catarratta, problemi cardiaci, atrofia retinica progressiva, problemi alla tiroide e ipersensibilità a sostanze chimiche e farmaci. Inoltre, hanno una pelle molto sottile che può essere facilmente ferita. Seguendo il programma di vaccinazione del cane e andando regolarmente dal veterinario ogni sei mesi, possiamo prevenire molti problemi di salute. Se vuoi conoscere altre razze di cani e le loro caratteristiche, non perderti la playlist che lasciamo qui accanto. Dicci! Adotterai Whippet! Alla prossima volta esperti!